Sapevi che la notte è la tua alleata di bellezza? Scopriamo insieme come applicare al meglio Snellente 7 Notti Gel Effetto Fresco. Massaggia la gamba con movimenti lenti e leggeri, partendo dalle ginocchia fino ai fianchi. Concentrati adesso sull'interno coscia, prendi una piega di pelle tra le dita e risali. Premi per massaggiare i tessuti. E non dimenticare l'altra gamba! Rimodella adesso i fianchi con movimenti alternati delle mani, palmo appoggiato e dita tese. Effettua più cicli durante l'anno anche con altri trattamenti Somatoline Skin Expert. Prenditi cura di te e del tuo corpo anche quando dormi. E scopri anche la versione effetto caldo e quella per pelli sensibili. Somatoline Skin Expert. Senti che funziona! E scopri anche la versione effetto caldo.